Ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che abbiamo parlando dell'aeroporto di Catania. Situazione più tranquilla stamane rispetto a ieri nell'aeroporto di Catania dove è in corso una riorganizzazione del traffico aereo dopo l'incendio che la notte tra domenica e lunedì ha danneggiato il Terminal A. La notte scorsa intorno alle 3 è decollato il primo volo dal Terminal C con destinazione Casablanca, riaperto ieri pomeriggio con due movimenti all'ora che saranno via via incrementati. In corso le operazioni di pulizia del Terminal A danneggiato nell'incendio, i vigili del fuoco sono al lavoro per gli ulteriori e più approfonditi accertamenti tecnici che dovranno stabilire origini e cause dell'incendio secondo i primi accertamenti partito da un condizionatore. E a proposito di incendi, incendi in tutta la Sicilia, roghi alimentati anche dal grande caldo e dunque tanto lavoro per vigili del fuoco e corpo forestale. Il caldo di questi giorni sta favorendo numerosi incendi in tutta la Sicilia, mettendo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Un rogo, divampato nella giornata di ieri, ha distrutto gran parte della riserva di Monte Bonifato ad Alcamo nel Trapanese. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte e solo dopo 36 ore le fiamme sono quasi del tutto sotto controllo e i Canadair hanno smesso di effettuare lanci di acqua. Numerosi incendi anche nel Palermitano. La situazione più pericolosa a Pioppo, frazione di Monreale, dove alcune case sono state minacciate dalle fiamme. Roghi anche a Partinico, uno ha riguardato la statale 113 nel tratto tra Partinico e Balestrate e un altro la strada provinciale 63 che collega la città al santuario della Madonna del Ponte. Si fa la conta dei danni anche a Polizzi Generosa, dove si sono sviluppati incendi sulla statale 643 e sulla provinciale 119. Al lavoro la forestale per realizzare viali parafuoco e mettere tutto in sicurezza. Incendi anche nel Catanese, in particolare la zona boscata di Piedimonte Etneo, dove alcune case sono state lambite dalle fiamme. A Siracusa un 63enne è stato denunciato dai carabinieri per truffa. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Belvedere, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato un 63enne per truffa. I fatti risalgono allo scorso febbraio, quando a una coppia di Siracusa è stata proposta la partecipazione dei figli ad alcuni concorsi di bellezza che si sarebbero svolti a Milano. Giunti in quella città, dopo aver sostenuto le spese di viaggio e alloggio per diverse migliaia di euro, i malcapitati hanno scoperto che gli eventi ai quali erano stati invitati di fatto non esistevano. Da qui la denuncia e l'identificazione da parte dei carabinieri del 63enne pugliese, a cui le vittime avevano pagato anche una somma di denaro per la partecipazione agli eventi. L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente alla quale dovrà rispondere del reato di truffa. Ci spostiamo a Palermo dove sono state eseguite misure cautelari nei confronti degli autori di un furto con esplosione in un supermercato. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere e dell'obbligo di dimora emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emerse nel corso di un'attività diretta dalla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di furto pluriaggravato, resistenza pubblico ufficiale e favoreggiamento. L'indagine, condotta dai militari del nucleo operativo della Compagnia San Lorenzo, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario a carico di tre soggetti, un 43enne romano e un 52enne palermitano, che sarebbero responsabili a vario titolo di furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nonché di un 31enne palermitano che avrebbe favorito il conterraneo nella fuga. In particolare, i fatti risalirebbero alle prime ore del mattino del 27 dicembre del 2022, quando gli indagati avrebbero provocato l'esplosione mediante due bombole di gas della cassa continua blindata posta all'esterno di un supermercato in via Asciuti, sottraendo 18 mila euro. Dopo la forte deflagrazione, gli indagati si sarebbero dati alla fuga, occultando la somma all'interno di un'auto noleggiata appositamente per il colpo, con le targhe anteriore e posteriore alterate e illegibili poiché coperte con del nastro isolante di colore nero. I militari del nucleo radiomobile di Palermo, attirati dal boato causato dallo scoppio, tentarono di bloccare l'autovettura in fuga che, non rispettando l'alto intimato, al fine di garantirsi l'impunità, effettuò pericolose manovre sfrecciando per le vie cittadine fino a collidere con un'autovettura in sosta. Uno dei complici, il 48enne romano, venne subito bloccato, arrestato in flagranza di reato ed è ad oggi detenuto in carcere. È stato condannato in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Il tempestivo intervento delle autoradio dell'arma ha permesso di recuperare i soldi asportati e restituirli all'esercizio commerciale. La successiva azione investigativa del nucleo operativo della Compagnia San Lorenzo, attuata mediante un'efficace e durevole attività tecnica, ha permesso di accertare i rapporti di conoscenza pregressa tra i complici e di appurare che gli stessi si trovassero sul territorio palermitano già prima del periodo natalizio, con il precipuo scopo di effettuare sopralluoghi presso esercizi commerciali dello stesso tipo al fine di scegliere l'obiettivo da colpire. Inoltre sono stati definiti i ruoli assunti durante il colpo dagli indagati, acquisendo a loro carico gravi indizi di colpevolezza, individuando nel 43enne romano colui che si sarebbe trovato a bordo dell'auto unitamente al complice arrestato e acclarando che il 52enne palermitano, oltre a pianificare unitamente ai complici il furto, avrebbe detenuto presso un immobile nella propria disponibilità le due bombole utilizzate per la deflagrazione, mentre nel corso dell'esecuzione dell'attività criminosa avrebbe svolto il ruolo di palo al fine di avvertire i complici dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il 31enne invece, non avendo concorso nel furto, si sarebbe prodigato dopo l'evento ad aiutare il conterraneo nel sottrarsi alle ricerche accompagnandolo nel trapanese. La misura di custodia cautelare in carcere nei confronti del 43enne romano non è stata eseguita in quanto risulta essersi recato momentaneamente all'estero. Furto in un supermercato anche a Pozzallo, nel ragusano, anche in questo caso sono stati individuati responsabili un uomo e una donna che sono stati arrestati. A Pozzallo i carabinieri della compagnia di Modica hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti originari di Ragusa, entrambi già noti poiché gravati da diversi pregiudizi penali. Si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 20 e 44 anni, che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I militari dell'arma, in circuito sul territorio 24 ore su 24, ricevuta la segnalazione del furto di una Smart TV asportata dal supermercato MD di Via dello Stadio, grazie alla grande capacità di osservazione e alla tempestività di intervento, hanno rintracciato in Via Torino i due malviventi. Bloccati a bordo di un'auto, controllati e perquisiti, gli stessi sono stati trovati in possesso del televisore, nascosto all'interno del bagagliaio, sottratto poco prima dall'esercizio commerciale, avente un valore di circa 200 euro. La TV è stata restituita al responsabile del supermercato, che ovviamente ne aveva denunciato il furto, accertato grazie anche alle riprese del sistema di videosorveglianza. I due soggetti sono stati condotti agli arresti domiciliari a disposizione del magistrato di turno del Tribunale di Ragusa. I militari della compagnia di Modica avvieranno anche il procedimento amministrativo sul conto dei due pregiudicati, finalizzato all'emissione del foglio di via dal comune di Pozzallo. Cambiamo decisamente argomento. In merito alle polemiche relative alle nomine di esperti a titolo gratuito, il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, replica all'ex sindaco Mario Bolognari. Lo ha intervistato Mauro Romano. Sindaco Cateno De Luca, un attacco da parte dell'opposizione guidata dall'ex sindaco Mario Bolognari sulla questione degli esperti. Ecco, cosa lei dice in proposito? Ma ho appreso oggi che il professore Bolognari insegnerà anche bestiologie e minchiologie, lo dico sottolineandolo tre volte, perché l'attacco che lui ha sferrato nei nostri confronti è inverosimile perché lo ha sferrato nei suoi confronti. Voglio ricordare al professore Bolognari che questa norma che ha introdotto la limitazione della nomina a due esperti sotto i 30 mila abitanti, i comuni sotto i 30 mila abitanti esperti gratuiti, non è altro che uno, Brobrio, che riguardava la limitazione della nomina degli esperti a pagamento, mentre il comma riguardante la nomina degli esperti a titolo gratuito per una questione di interpretazione letterale è stata posta sempre nel limite di due. Ma nessuno mai ne aveva tenuto conto, tant'è vero che lo stesso sindaco Bolognari ha continuato a nominare esperti gratuiti, nel 2021, nel 2022, nel 2023, aveva 14 esperti gratuiti, non ha mai revocato questi esperti e anche quando è uscita la norma ha continuato a farlo. Ma anch'io da sindaco di Messia lo vi ho continuato a fare, perché tutti quanti nell'ambiente sapevamo che era semplicemente una questione interpretativa. Ho subito quest'attacco prima con un'interpellanza che sta invece negli atti tipici dei consiglieri comunali, ed è giusto che il consigliere comunale faccia la propria attività, e l'ha fatta il 20 di giugno. Poi mi ha fatto un esposto a tutti gli effetti, al prefetto e all'assessorato delle autonomie locali, dove mi ha chiusa che io sto violando le leggi e non solo, dice anche che oggi sto svolgendo un'attività in conflitto di interessi, perché ho proposto che venga cancellato semplicemente questo comma che esiste solo, sottolineo se qualche credino lo vuole utilizzare per fare gli esposti. E allora rispondo definitivamente. Io ho proposto a Parlamento Siciliano, come ho fatto qualche settimana fa per quanto riguarda gli introiti da riconoscere al Comune di Tàormina per lo smigliettamento al Teatro Antico, una semplice interpretazione della norma, per come era stata sempre interpretata e applicata, da lei, dall'ex sindaco bolognale e da tutto il mondo. Mi amareggia un fatto, che un personaggio oggi usa strumenti che prima utilizzava in suo favore contro il cosiddetto l'indico, probabilmente un certo retaggio d'etero-maxista di fare le denunce e gli esposti, ancora è rimasto in capo al professore Bologna. Mi auguro che guarisca anche da questa patologia. Ci spostiamo a Giardini Naxos, dove è di nuovo rotto l'ascensore per disabili in via Pietra Goliti, ce ne parla ancora Mauro Romano. Il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leotta, oggi siamo qua in via Pietra Goliti per affrontare un problema importante per tante persone che vogliono raggiungere la spiaggia attraverso un ascensore che non funziona mai. Ma perché non funziona mai, Presidente? Io e il consigliere Fichera vogliamo mettere in evidenza che questo è diventato l'ennesimo monumento all'incompetenza e allo spreco di soldi pubblici. Da 2020 a 2022 questo elevatore che è stato rotto per la maggior parte del tempo ci è costato 4.600 Euro in manutenzione, senza che il problema venisse risolto. Noi vogliamo chiedere al nuovo assessore ai lavori pubblici di trovare una soluzione a medio e lungo termine per risolvere in maniera definitiva questa problematica. Consigliere Fichera, le iniziative quali sono? Sensibilizzerete sicuramente l'amministrazione? Sì, faremo impegnare l'assessore affinché predisponga una somma per ripristinare e capire a monte quale sia il problema, dato che sistematicamente vengono fatte delle manutenzioni, ma il problema non è mai stato risolto. Chiudiamo con il calcio e le parole del nuovo attaccante del Palermo, Roberto Insigne. Le sensazioni sono state più che ottime, il gruppo subito mi hanno fatto entrare e ti dico che mi sta trovando benissimo, squadra ottima impressione, nello speduto ci divertiamo e sono molto contento di farne parte. Per quanto riguarda le atlative sono un'atlatativa semplice pure perché subito ho detto sì al Palermo, quindi non ci ho messo tempo a pensare e di fare la scelta. Avevo la proposta del Palermo, abbiamo parlato insieme al procuratore con il Frosinone, che c'era questa possibilità e io mi andava di cambiare e di venire a Palermo. Io ho sempre fatto l'esterno a destra nel 4-3, però sono completamente a disposizione del mister, della squadra per dare una mano e per fare bene, quindi dove il mister mi chiederà di giocare la giocherò. Il mio fratello sta bene, adesso sta dormendo, quindi l'ho sentito, lo sento quasi tutte le sere per Whatsapp, video chiamate, eccetera, è molto contento e ti dico la verità, pure lui mi ha detto che è stata la scelta migliore, quindi sono contento. Sto pensando molto a quest'anno, non a quello che ho fatto in passato, ne ho vinti di campionati sicuramente, però vincere è sempre bello, però dobbiamo stare con i piedi per terra, essere tranquilli, dobbiamo essere competitivi nel campionato sicuramente, però andiamo con i piedi di piombo e cerchiamo di fare le cose man mano. Sono arrivato abbastanza bene pure perché mi sono allenato tanto quest'estate, quindi perché avevo voglia di ripartire subito bene. Matteo è un giocatore straordinario, io già l'anno scorso quando abbiamo giocato contro gli ho fatti complimenti a fine partita per come si muoveva e per come faceva giocare la squadra, quindi sono contento di poter giocare con lui e di fornirgli più assist se possibile. Giocare a Barbera con 30, 40, 50 mila persone per noi dovrà essere solo una spinta e una forza in più per portare a casa il risultato e l'obiettivo che ci metteremo in testa appena inizia il campionato. È tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio e Notizia. Grazie.